e vede i protagonisti, i ragazzi di questo nostro amico coreografo, come dicevo, della settima edizione di Amici lo vado a ricordare ancora una volta, si chiama Vincenzo Mingolla e il ballo è proprio dedicato alla regina delle calzature in questo caso ma è veramente delle cose eccezionali e la coreografia è proprio l'una roia on the rainy nights, even the coldest days your moments ago, the seconds away the principle of nature, it's true but, it's a cruel world we can play it safe or play it cool Follow the leader or make up all the rules Whatever you want, the choice is yours So choose I'll choose you If it's already been done, undo it It takes two And it's all to make you, to prove it Talk about winning, you ain't got no offense Hear what you're saying, you ain't got a chance That's the way it is That's the way it is What's so good about that? Talk about winning, you don't make no sense Hear what you're saying, you ain't got a chance That's the way it is That's the way it is What's so good about that? Move slowly now I'll know you somehow Don't get cheating Don't get to me Way to go on Straight to catch on Way too long What's so good about that? You say you ain't got a chance You say you ain't got a chance When you gotta go Don't worry outside Where you try to hide Don't worry outside Always get it right Always get it right Believe me, believe me You say you ain't got a chance che è una gente dell'amore qui fa l'amore Buonasera, buonasera buonasera a tutti, grazie eccomi qua Ivano Trau, professione rumorista e qui potrebbe nascere qualche problema perché in effetti non tutti sanno esattamente cosa fa il rumorista ma è molto semplice il rumorista non è niente altro che un imitatore di rumori ma come li imiterà a questi rumori? li imiterà usando esclusivamente la bocca ma soprattutto il fiato trasformiamo la platea, l'anfiteatro lo facciamo diventare un eliporto quindi sentirete l'alzarsi in volo di elicotteri che incontreranno dei bombardieri, ci sarà il bombardamento il duello aereo la contraerea, lo sgancio delle bombe l'esplosione delle bombe e soltanto dopo aver compiuto la loro visione sentirete questi bombardieri allontanarsi chiedo alla regia un pochino di effetto stanno per partire gli elicotteri e l'esplosione delle bombe 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.